Allora io penso che ci sia un limite a qualunque cosa, anche in questa sgangherata Repubblica nella quale pare che le regole non esistano più. Questo è il Parlamento della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati. Noi siamo qui da stamattina dove il Governo ci costringe ad approvare, a discutere centinaia di ordini del giorno che il centrodestra ha presentato per tentare di fermare la vergogna del decreto in sicurezza, decreto con il quale in piena pandemia, in piena emergenza, in piena situazione drammatica per l'Italia, il Governo invece si occupa di facilitare l'ingresso degli immigrati clandestini come se ce ne fosse bisogno all'interno dei nostri confini. Per cui mentre le imprese chiudono i porti aprono, mentre gli imprenditori stanno in ginocchio gli scafisti festeggiano, mentre agli italiani si dice che non possono andare da un comune all'altro a Natale manco per andare a trovare la nonna, agli immigrati si dice che deve essere più facile passare da una nazione all'altra, da un continente all'altro e compagnia cantante. Mentre siamo lì a dire agli italiani che non possono pagare con il contante, alla mafia nigeriana, alla mafia cinese, li aiutiamo a non dover più neanche pagare la tassa sul money transfer, cioè sul trasferimento dell'offaccio di droga o della prostituzione. Noi ci stiamo occupando di questo oggi, il Parlamento della Repubblica Italiana si sta occupando del decreto con il quale si vuole dire che le ONG non devono pagare le multe, invece devono pagare i commercianti, che ovviamente viene di fatto reintrodotta alla protezione umanitaria così possiamo dare a tutti il permesso di soggiorno, addirittura che nessuno che si dovesse dichiarare omosessuale può essere rimpatriato e io continuo a chiedere ai colleghi della sinistra come si faccia a verificare se qualcuno è davvero omosessuale oppure no, ma sono risposte che non arriveranno, perché questi signori ti vogliono riempire di centinaia di migliaia di immigrati, di milioni di immigrati, ma non hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, non fanno una norma chiara con scritto voglio che chiunque intenda entrare in Italia possa farlo, no, te lo chiamano lotta all'omofobia, te lo chiamano diritti, te lo chiamano cose che non c'entrano niente con quello che stanno facendo, ma non è di questo che voglio parlare. Mentre noi siamo qui a occuparci di questa roba che non c'entra assolutamente niente con la pandemia e con l'emergenza e con i problemi che hanno gli italiani, veniamo a sapere che Giuseppe Conte, presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, che ricordo essere una repubblica parlamentare, parla su Facebook alle 8 di sera rigorosamente per comunicare gli italiani quali sono i loro diritti nel prossimo mese, anche in quest'aula insieme agli a**i abbiamo chiesto, scusate ma Conte invece di dirlo su Facebook lo può avvenire a dire al Parlamento della Repubblica Italiana? Potremmo perdere un'oretta a parlare degli immigrati e di come favorire immigrati che continuano ad entrare mentre abbiamo milioni di italiani in ginocchio. No, Conte convoca la sua bella conferenza stampa alle ore 20 davanti a tutti i telegiornali e ci sono centinaia di migliaia di persone collegate a questa conferenza stampa perché purtroppo ormai da queste conferenze stampa tu sai quali sono i diritti che la democratica Repubblica Italiana ti riconosce. Perché Conte ha convocato questa conferenza stampa? Ve lo dico io. Non per raccontare quali sono le prescrizioni del Natale, per dirci se possiamo andare o non possiamo andare a cena con i nostri genitori, con i nostri nonni. No! L'obiettivo della conferenza stampa di Conte, convocata da Palazzo Chigi in prime time per farsi guardare da centinaia di migliaia di persone con la scusa di dire quali erano questi diritti e difendersi per un... è caduta la connessione, potenti mezzi del Parlamento della Repubblica Italiana, dicevo il Presidente del Consiglio Conte convoca la sua bella conferenza stampa, la convoca facendo finta che ci deve parlare di un problema che ci riguarda, che interessa a noi, che interessa il nostro futuro, che interessa che cosa possiamo fare, che interessa il nostro Natale, i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre speranze, le nostre difficoltà e le nostre tragedie e lo usa per fare altro. Da Palazzo Chigi, in prime time, con la domandina casualmente messa lì, a chiedere, Presidente Conte, ma che cosa ci risponde su questo fatto che c'è stato uno esposto alla Procura della Repubblica per chiedere conto dell'utilizzo pare improprio di uomini della sua scorta, per andare a mettere in salvo la sua fidanzata che veniva rincorsa da alcuni giornalisti per chiedere domande su una legge ad personam che il Presidente del Consiglio e il Governo italiano avrebbero fatto per il padre di questa signora, che pare sia stata aiutata dagli uomini della scorta del Presidente del Consiglio a scappare da quei giornalisti. E lui, davanti a milioni di italiani collegati per sapere se a Natale possono vedere i loro nonni, approfitta per dare la sua versione unilaterale a questa vicenda come se non dovesse, come tutti gli esponenti politici del mondo, difendersi in una sede propria, in una sede nella quale qualcuno possa rispondergli, in una sede nella quale si possa approfondire il problema politicamente e non ci sia semplicemente uno sproluocchio di un signore solo che ritiene di essere il padrone di questa nazione. Allora, vogliamo parlare di Stato di diritto in Europa? Il problema dello Stato di diritto in Europa, adesso lo pongo io, altro che Orban. No Orban, i ungheresi, i polacchi, adesso c'è un problema in Italia di difesa dello Stato di diritto. E il problema lo voglio porre io, perché nessuna democrazia degna di questo nome, le istituzioni si usano così. Presidente Conte, forse non le avrebbe fatto male fare un giro nei luoghi rappresentativi, forse non le avrebbe fatto male essere eletto da qualche parte una volta nella sua vita per capire il valore della democrazia, perché non è questo. Lo pongo io adesso il problema dello Stato di diritto e chiedo ufficialmente al Presidente della Repubblica, Mattarella, che cosa pensi di questo uso delle nostre istituzioni? Perché adesso basta, c'è un limite a tutto. Conte si vuole difendere sull'uso della sua scorta? Lo faccia nelle sedi proprie, come farebbe qualsiasi altro politico qui dentro, chiamato a rispondere dell'uso eventualmente distorto di privilegi personali. Lo deve fare nelle sedi competenti, non approfittando di italiani che aspettano di sapere se possono festeggiare almeno il Natale. Vergogna!